Per acquistare crediti visitate FIFA Coinstank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi il secondo episodio dei giocatori se fossero su FIFA, cioè i giocatori che io creo che non sono presenti su Ultimate Team o anche su FIFA in generale. Sono davvero contento che il primo episodio di questa serie vi sia piaciuto di brutto, infatti un sacco di visual, soprattutto tanti mi piace e un casino davvero di commenti. Infatti vi invito già da subito a lasciare un bel like e ovviamente un commento scrivendomi i giocatori che vorreste che io tratti nel prossimo video. I giocatori di cui parlerò oggi, che ho fatto oggi, sono tre giocatori che avete esclusivamente scritto voi nei commenti, ma che comunque avrei fatto lo stesso perché sono giocatori davvero interessanti, comunque importanti. Quindi direi di non perderci troppo in chiacchiere partendo dal primo giocatore, quello più richiesto da penso tutti, cioè Brozovic, neoacquisto dell'Inter, croato, che è il giocatore da cui ho preso le statistiche da Sofifa, come ho detto, come dicevo nello scorso video, e tramite una sorta di tabella, riesco con le varie statistiche a determinare quali sono le statistiche che andrebbero scritte sulla carta di Ultimate Team e queste sarebbero le sue. Purtroppo, come potete vedere, non è una carta super interessante, o meglio, ha delle statistiche davvero bassine per quanto riguarda velocità, tiro, dribbling, che non è altissimo, e soprattutto per un CC difese fisico sono un po' basse come statistiche. Infatti mi sono un po' sorpreso quando l'ho visto. Io ovviamente Brozovic lo conosco davvero davvero poco, ma come molti di voi penso, perché nell'Inter ha giocato finora non tantissimo, visto che è appena arrivato, quindi vedremo in campionato e magari anche in Europa League, se è inserito nella lista non lo so, come si comporterà e se sarà necessario poi magari fare una sorta di upgrade al giocatore in base alle nostre esigenze e a come ovviamente gioca in real life. Comunque sia, ha anche 4 stelle piede debole, 2 stelle abilità che fanno un po' cagare, e come Warcraft se non sbaglio aveva alto-medio, ma qui non l'ho scritto perché vabbè, non è che interessa moltissimo. Comunque da quello che ho visto è un 70, come potete vedere da questa carta, con un valore, diciamo margine di crescita fino a 79 se non erro, quindi comunque ci sta poi, magari in carriera sarebbe anche buono da prendere. Andiamo con il secondo giocatore di oggi, altro giocatore che io volevo trattare a bestia, cioè Conoplianca del Dnipro, giocatore ucraino che gioca appunto nel campionato ucraino nel Dnipro. Come ho detto nello scorso video, il campionato ucraino è presente solamente in una piccolissima parte su Ultimate Team, e cioè solamente lo Shakhtar è presente su Ultimate Team, e quindi il Dnipro non è presente, perciò io ho fatto questa carta, che secondo me è molto molto valida, di un giocatore molto buono, che comunque in carriera ha fatto diversi gol e diversi assist da ala, in realtà lui può giocare anche da ala destra o da trequartista, in ogni caso il suo ruolo fisso sarebbe ala di sinistra, su Ultimate Team secondo me sarebbe veramente forte, perché ha velocità, dribbling pazzesco e un ottimo tiro e passaggio, quindi secondo me sarebbe tranquillamente una bestia nascosta che porterei sul mio canale tranquillamente. Inoltre, essendo un giocatore dotato di un gran dribbling, gli ho dato anche quattro stelle abilità e gli ho messo anche quattro stelle piede debole, quindi secondo me è un giocatore davvero buono, davvero ottimo, che era legato, diciamo, in questo mercato invernale, è stato accostato molto spesso alla Roma, e si vedrà magari a giugno o comunque nel mercato estivo se andrà in qualche squadra europea, così lo potremo avere anche l'anno prossimo su Ultimate Team, a meno che non acquisiscano le licenze di tutte le squadre ucraine, ma poi vabbè, si vedrà successivamente. Andiamo con l'ultimo giocatore di oggi, che è, diciamo, il giocatore del momento, cioè Odegaard, il giocatore norvegese detto Messi di ghiaccio, che è appena stato acquistato da Real Madrid per cifre folli, che adesso comunque gioca nella, diciamo, nella primavera, diciamo nel Real Madrid Castiglia. Io, ovviamente, non avendolo mai visto giocare, come penso molti di voi, se non da qualche video così a random su YouTube, non ho potuto dargli con grande precisione delle statistiche, perciò mi sono un po' affidato un po' all'intuito, un po' ai vari video che hanno fatto altri YouTuber, ho preso un po' spunto dalle varie statistiche, e comunque è venuto fuori questo tipo di carta, che non è affatto male, soprattutto considerando che è un dribbling pazzesco per essere un giocatore argento, o comunque per un giocatore, tra l'altro, della sua età, giovanissimo. Non so se l'anno prossimo ci sarà su Ultimate Team, ma si vedrà. Giocatore abbastanza veloce, con un dribbling pazzesco, 4 stelle abilità, gli ho dato 3 stelle piede debole, lui è mancino, e poi vabbè, passaggio, fisico e tiro sono un po' a random, perché ovviamente non sapevo cosa mettergli. Comunque è un giocatore molto giovane, ma che ha uno stipendio pazzesco. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, secondo voi è giusto dare a un ragazzo così giovane stipendi così altissimi. Poi ovviamente lui è uno dei giocatori più talentuosi, uno dei giovani più talentuosi che ci sono, poi bisognerà vedere se manterrà le promesse. Comunque raga, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un like, 400 like uscirà un nuovo video, scrivetemi sempre nei commenti altri giocatori che vorreste che io tratti, che io crei più che altro, nei prossimi episodi, magari anche qualche giocatore, che ne so, della Liga Brasiliana, che non è presente in Ultimate Team. Fatemi quindi sapere, iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate sempre in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Bella raga!